Buongiorno! Io e Stella stiamo andando a vedere la casa nuova. Io e Stella addormentate. Sì, tutte e due addormentate, perché ieri hanno iniziato finalmente i lavori. Andiamo. Suoniamo? Siamo in ascensore. Di qua siamo. Eccoci. Oh, guarda! Mamma mia! Oh mio Dio! Ciao, Stella! Ciao! Poi qua c'è la stanzona. Ok. Ciao! Allora, qui il discorso era se tenere il bagno così con l'antibagno così o allargarlo. Alla fine abbiamo deciso di tenerlo così per avere cucina, zona pranzo bella ampia. Di là il terrazzo, soggiorno e camera degli ospiti. Sanzetta, soggiorno, terrazzo, cucina e bagno con l'antibagno. Sì, siamo iniziati. Sì, siamo iniziati. Sì, siamo iniziati. Sì, siamo iniziati. Ok, abbiamo visto tutto. Yeee! E questo è il secondo giorno dei lavori alla casa nuova. Vieni, Stella. Grazie. Prego. Buongiorno. 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 Andiamo, Stella. Salutiamo la casa nuova. La saluterei, non potrei far cadere nei propri. Ciao. Ciao. Ciao casa nuova. Poi ci vediamo tra qualche mese quando sarà finita, ma ci vediamo nel frattempo in costruzione. Ciao casa, mi raccomando, fatti bella per noi. Ciao ciao.